In Italia siamo sempre più poveri a lanciare l'allarme alla comunità cattolica di Sant'Egidio che si occupa di distribuire la spesa ai più bisognosi e molto spesso si tratta di anziani che con le loro pensioni non riescono più ad arrivare a fine mese. E' meglio far pagare ai poveri perché gli stati sono forti con i deboli e deboli con i forti. La comunità religiosa svolge un capillare lavoro di assistenza ai poveri fin dal 1968 ma da qualche tempo lamenta che sono sempre di più le persone a ricorrere ai loro aiuti. Purtroppo noi parliamo di crisi ormai da vent'anni a questa parte e tutti gli anni noi vediamo gente che arriva qua con problemi sempre nuovi. E' vero rispetto a ieri non è cambiato molto cioè voglio dire però si allarga il numero delle persone che chiedono. Grazie.